Poi il fatto che abbiamo organizzato un gruppo di personaggi in cui potevano arrivare a fare questa cosa difficilissima, studiate nei minimi particolari, tutte queste cose che hanno fatto entusiasmare il mondo, diciamo, no? Era un fattore furto colossale in un luogo super protetto con tantissimi tipi di antifurti, tutti bypassati, tutti fatti, tutti eliminati senza colpo a ferire nel senso che nessuno è stato toccato, nessuna persona è stata violentata nel senso di colpirla.